Stasera Stasera parleremo di una cosa un po' particolare che si chiama orologio biologico, è un orologio che gestisce i bioritmi all'interno del nostro corpo e di come quello che abbiamo scoperto è come poter utilizzare questo orologio per identificare dei nuovi cure per curare malattie, soprattutto questa sera si parla di tumore e di come quindi possiamo identificare dei nuovi medicinali proprio partendo dalle attuali conoscenze dell'orologio biologico e di come questo viene modificato nelle cellule del tumore. Le cellule del nostro corpo hanno un orologio per temporizzare tutte le loro attività e quindi devono fare le loro attività in maniera ben coordinata e anche coordinata tra di loro. Le cellule dei tumorali quello che fanno è modificano questo orologio perché in realtà non vogliono coordinarsi con il nostro corpo perché il loro unico scopo è quello di crescere e dirigersi e quindi lo modificano. E modificandolo hanno un vantaggio, hanno il vantaggio di non essere più attaccate a un controllo. Quello che noi abbiamo scoperto è che possiamo in qualche modo andare con delle molecole, in qualche modo a rompere gli ingranaggi dell'orologio delle cellule dei tumori e a quel punto renderle più deboli, cioè farle di nuovo capire che è il momento di morire. Paint the Science nasce a Londra un po' di anni fa e questa qui è la terza edizione italiana e andiamo praticamente in contemporanea con 11 paesi nel mondo e ben 18 città italiane. Questa sera per tre sere la scienza entrerà nei pub cercando di comunicare a tutti, anche non addetti ai lavori, quello che normalmente viene considerato una cosa lontana delle cattedre universitarie. Invece così portando le pub riusciamo a far conoscere quelle che sono le più recenti scoperte scientifiche e cosa fanno appunto questi scienziati nei loro laboratori. La scienza è la birra, nel senso che mi sembra un studio favoloso. La birra si adisce benissimo alla scienza, diciamola così.